Ma se hai la sfortuna di avere delle persone tossiche intorno a te, ad esempio sull'ambiente di lavoro, di avere, non so, una persona con un disturbo narcisistico di personalità, persone manipolatorie nei tuoi confronti, come puoi reagire, come puoi gestire questa situazione? Una delle possibilità è sicuramente quella di utilizzare il metodo del sasso grigio. Sasso grigio che è un metodo che è stato descritto da Kathleen Lidong in un suo libro, che è una pietra miliare nella gestione dei rapporti con persone tossiche, di cui ti lascio anche il link per acquistarlo e per quindi poterlo leggere con calma e approfondirlo, sia nella descrizione che sul blog www.fabiomazza.eu, in modo tale che puoi approfondire anche meglio ciò di cui stiamo parlando. Perché ne conveniamo tutti che è molto semplice poter incontrare persone che hanno dei comportamenti tossici nei nostri confronti. E a volte queste persone provocano in noi delle reazioni che sono molto forti, che sono di sofferenza, che sono di disagio, che sono di vergogna, che sono di senso di colpa. Quello che sappiamo di solito è che comunque ci stiamo male, cioè soffriamo per avere intorno queste persone che dal nulla comunque ogni volta trovano uno spunto per stuzzicarci, per farci stare male, per renderci la vita più difficile. A volte perché vogliono essere più competitivi e quindi vogliono affossarci, altre volte proprio perché non riescono a farne a meno. Devono comunque intossicarci e manipolarci. E tutto questo, lo sappiamo benissimo, ha un grosso costo nella nostra vita, talmente alto che a volte ci spegne addirittura delle nostre energie. E quando torniamo a casa dal lavoro ci sentiamo come se fossimo stati derubati. E allora provare a utilizzare il metodo del sasso grigio potrebbe essere un'ottima soluzione per provare a togliere a loro qualche soddisfazione. Perché si sa, hanno bisogno, le persone tossiche che abbiamo intorno, soprattutto gli individui che hanno un disturbo di personalità narcisistico, hanno bisogno delle nostre reazioni emotive, buone, cattive, non è importante. Per loro la cosa importante è che qualcuno si emozioni per loro, anche fosse rabbia, anche fosse angoscia. Questo però li nutre perché gli fa sentire il loro senso di importanza aumentare. E questo è il cuore del metodo, cioè togliere benzina e carburante alle persone tossiche che abbiamo intorno. Cioè come non fornire a loro altra stimolazione per cercare di farci stare male o comunque di rovinarci l'esistenza. È ovvio che questo metodo può essere utilizzato in tanti ambiti. Io mi focalizzerò soprattutto sull'ambiente di lavoro, ma può essere utilizzato anche con un amico tossico o comunque manipolatore. Può essere utilizzato con un partner tossico e manipolatore, ad esempio, come dicevamo, con un disturbo narcisistico di personalità. Può essere utilizzato anche con un parente. Ovviamente, a seconda del grado di legame, tutto diventa più complicato e difficile già gestire. Ma i principi sono sempre gli stessi. Togliere loro energia, interesse e benzina. Anche perché, se ci pensate, sasso grigio è un qualcosa di inerme, è un qualcosa che non ha vita, è un qualcosa che sta nello sfondo. È difficile accorgersi di un sasso grigio mentre si cammina. È più facile accorgersi di un sasso colorato, di un qualcosa che ci attira l'attenzione. E invece, quello che dobbiamo cercare di fare è di diventare capaci di non suscitare interesse nelle persone che ci vogliono comunque danneggiare o complicare la vita. È chiaro che, adesso che abbiamo compreso un po' la filosofia, e l'idea che c'è dietro a questo tipo di reazione, cioè quella di non provocare, di non suscitare interesse e attenzione, di non attrarre a sé la persona che ci vuole fare del male e che a volte, se è grave, si diverte pure nel farci del male, possiamo pensare a come applicarlo. Esistono delle differenze, come dicevamo, cioè sia di ambiente, ambiente lavorativo, familiare, di coppia, amicizie, ma esistono anche delle differenze tra individui, cioè ad alcuni funziona in un certo modo, ad altre persone funziona diversamente. Esistono diverse strategie da mettere in atto e bisogna adattarle alla persona che sia di fronte. Ma l'obiettivo è sempre e solo uno, quello di far disinteressare la persona malevola nei nostri confronti, la persona tossica, alla nostra vita. Non vorrei mai che si confondesse il metodo del sasso grigio con l'ostruzionismo o comunque con un trattamento del silenzio, perché è veramente l'opposto. Cioè, mentre il trattamento del silenzio, che è comunque il silenzio punitivo, che viene messo in atto molto spesso dalle persone manipolatorie, soprattutto dai narcisisti, cioè coloro che hanno un disturbo di personalità narcisistica, è messo in atto soprattutto per attirare a sé le altre persone, cioè far sentire in colpa, far provare vergogna, far chiedere all'altra persona, ma perché mi sta trattando in questo modo? Ma perché non mi dà l'attenzione che vorrei? Io vorrei essere più vicino? Perché mentre il narcisista lo usa, il silenzio punitivo, il trattamento del silenzio, per farti sentire in colpa, per cercare di attirarti a sé, per avere più potere, quello che fai invece con il sasso grigio è il contrario, è proprio cercare di disinteressare l'altra persona, fare in modo che esca dalla tua vita. Non vuoi avere più potere su di lei, vuoi semplicemente che ti lasci in pace, che se ne vada. Altra differenza è che mentre l'ostruzionismo, il trattamento del silenzio, il silenzio punitivo, è un qualcosa che è abusante, è violento, pensate a un genitore che fa questo trattamento a un figlio, è qualcosa di molto potente e di solito è fatto per manipolare l'altra persona, per indurla a fare ciò che si vuole, ottenere quindi un vantaggio da questa situazione. Quando una persona mette in atto invece il comportamento del sasso grigio, quello che vuole è difendersi dall'abuso, dagli attacchi della persona che ha di fronte. E in ultimo, ribadiamo ancora, quando tu fai il metodo del sasso grigio, è perché vuoi riuscire a difenderti da azioni magari anche violente o comunque verbalmente, a volte forse anche fisiche, e vuoi mettere qualcosa che ti aiuti a difenderti. Quando invece viene messo in atto il silenzio punitivo o l'ostruzionismo, è qualcosa che tende a offendere l'altra persona e quindi è abusante, non è da abusato. Fatte queste distinzioni, adesso iniziamo a dirci alcuni modi in cui mettere in atto il metodo del sasso grigio. Il primo è di evitare di dire alle persone che lo stai facendo. Cioè, anche se sei una persona onesta, leale e ti piace dire quello che pensi e quello che provi alle altre persone, se hai a che fare con persone che tendono a intossicarti o a manipolarti, che risucchiano le tue energie, che ti trattano male, che sono a volte anche offensive nei tuoi confronti, non devi dire che stai cercando di evitarli o che vuoi staccarti da loro. Perché questo diventerà un'ulteriore freccia che avranno loro nella loro faretra contro di te, perché utilizzeranno questa informazione per farti vergognare davanti agli altri, oppure per farti sentire in colpa, oppure per avere più controllo nei tuoi confronti. Comunque è un'informazione che è sempre meglio non dare. Secondo, utilizziamo tantissimo nella comunicazione il nostro contatto visivo per esprimere ciò che pensiamo, per esprimere le nostre emozioni, per far capire all'altro e sottolineare all'altro ciò che noi pensiamo e viviamo profondamente. In questo caso, è da evitare. E allora è più utile guardare il computer, è più utile guardare da un'altra parte, cercare di non fissarli negli occhi, ma al limite potremmo fissare la loro punta del naso o guardarli in un orecchio. Comunque non dargli l'impressione di essere così interessati a quello che loro dicono, perché loro percepiranno di avere un legame, un controllo e un potere nei confronti del proprio interlocutore. Terzo, cerca di avere comunque, sempre, un comportamento, una comunicazione molto tranquilla. Una comunicazione poco emotiva, molto disimpegnata, come se si trattasse di parlare di cose che in realtà non ti forniscono questo grande interesse. E quindi le tratti con grande semplicità e anche le offese, alcune provocazioni, non le cogli o comunque rispondi in maniera pacata, perché in realtà non ti stanno urtando. Quarta cosa, cerca di limitare al minimo le interazioni. In questo caso è pesante come soluzione, perché se all'interno del gruppo di lavoro, tra i colleghi, tu hai una persona che ti distrugge l'ambiente, che ti fa star male, che lo inquina, e rinunciare anche a frequentare gli altri, questo ti potrebbe dare veramente molto fastidio e potrebbe essere qualcosa di molto pesante. Però se tu pensi che andare a pranzo con loro è comunque sempre fonte di provocazioni, di insulti, di essere messi in ridicolo di fronte agli altri, di essere comunque sempre un po' dileggiati, sempre un po' tirati per la collottola in cose che non si vuole. Il fatto di poter limitare, quindi in quel caso ad esempio mangiare in un altro orario o cercare di portarsi da casa qualcosa, mangiare isolati, è una rinuncia importante, lo capisco, ma potrebbe essere utile per far capire che non sei così interessata ad avere comunque sempre il contatto con queste persone. Vale anche per tutto il discorso dopo lavoro, vedersi fuori orario, per avere qualche situazione, non so, andare a far l'aperitivo, cercare di limitare al massimo. È una rinuncia, ma questo può aiutarti a percorrere quella strada, di provocare disinteresse nel narcisista, nella persona tossica, manipolatoria che è dall'altra parte. Quinto, cerca di limitare il più possibile le interazioni con loro. Devono essere soprattutto brevi e se hai la possibilità, utilizza metodi elettronici, usa la mail, usa messaggi, cerca di chiamarli, ma il meno possibile, in modo tale da scambiare il più possibile informazioni, ma da avere minore interazioni possibili. È chiaro, nell'ambiente di lavoro forse questo è possibile, perché tra colleghi tante volte ci si possono scrivere dei messaggi, si usano delle chat per comunicare, non è necessario per forza alzarsi e andare all'altra scrivania o comunque alzarsi e andare nell'altro ufficio. È possibile a volte limitarsi. Nelle altre situazioni, quali possono essere quelle sentimentali, più semplice, quando si è co-genitori di alcuni figli con un ex o una ex che è manipolatoria, narcisista, eccetera, bisogna cercare, anche in questo caso, di essere il più possibile fermi sulle proprie posizioni e sulle interazioni proprio legate solo alla gestione dei figli, ma tornando al lavoro, solo discutere di cose necessarie, non avere conversazioni del più e del meno. Sesto, non fornire informazioni personali. Lo so, è brutto pensare questo soprattutto se si è persone, come dicevo, oneste, leali, interessate, capaci di ascoltare, con dei valori, pensare di non poter condividere con persone con le quali si condivide invece molto tempo, otto ore al giorno, pensare di non poter dire delle cose importanti della propria vita. Potrebbe succedere che un membro della propria famiglia ha un problema di salute importante, potrebbe succedere che stiamo vivendo una situazione relazionale difficile, potrebbe succedere che abbiamo bisogno di sfogarci. Dire cose nostre, personali, a queste persone è veramente un autogol terribile perché non forniremo ad altre persone dei motivi per starci più vicine o per essere più capite ed essere apprezzate. Forniremo semplicemente più armi e quelle stesse cose che noi abbiamo detto in quel momento magari sentendoci anche capiti potrebbe essere utilizzate in una riunione per discreditarci o per rubarci un lavoro, un compito. Magari confidare guarda ho un problema perché mia moglie, mio marito passa un brutto momento con la salute o col proprio lavoro potrebbe essere il modo per cui quella persona tossica poi si appropria di alcune nostre mansioni all'interno dell'equip del team di lavoro e allora è sconsigliatissimo dare informazioni personali. Credo che a quel punto uno debba scegliere solo una persona molto fidata che non ha questo tipo di disturbo che non è tossica e provare ad avere con quella persona un maggior rapporto e non dire cose di sé per poter avvicinare a sé la persona tossica che ti maltratta. Quella bisogna tenerla lontana e uno dei modi migliori è quello di non fornire informazioni personali. Sette, potremmo riassumerlo con non si può combattere tutte le battaglie non si può fare appugni con tutti gli smargiassi che si incontrano quindi devi scegliere quali battaglie hanno un senso e quali no e generalmente se hai la possibilità sono veramente pochissime l'altra persona ti provocherà cercherà di metterti in difficoltà cercherà una tua reazione e tu sarai pronto o pronta a difenderti a confutare quello che sta dicendo ma questo in realtà è fare il suo gioco. Se proprio ti senti oberato dallo stress ti senti sempre comunque in difficoltà ogni volta che ti rapporti e ti relazioni con questa persona io ti consiglierei di prenderti un diario e di segnarti le cose e di scrivertele sul telefono o su un diario fisico in modo tale da poterle scaricare ma usarle per combattere con lui o con lei direi che è una mossa veramente sbagliata comunque contraria al metodo del sasso grigio. Ottavo modo è quello di iniziare a comprendere sempre di più quali sono i fattori scatenanti nella tua discussione con l'altra persona quali sono i tuoi trigger i punti con cui l'altra persona che riesce a metterti le mani come mi disse una volta un collega tedesco nelle trip cioè riesce a metterti le mani in qualche punto in cui tu senti veramente di essere strappato da dentro devi conoscere quali sono le sue armi quali sono le maniglie con le quali lui riesce ad afferrarti ogni volta perché conoscere questo ti dà il potere di prevenire i suoi attacchi anche perché se tu ogni volta che senti qualcosa che non funziona che fa un qualcosa che ti dà fastidio e lo segnali al tuo capo diventerebbe comunque complicato puoi gestire anche il rapporto col capo è più importante allora che tu impari a sapere che se tu gli chiedi di chiudere la finestra non lo farà se tu gli chiederai di accendere il condizionatore non lo farà viceversa se gli chiedi di spegnerlo lo accenderà e allora se tu sai già queste cose devi imparare a sapere come utilizzare le tue richieste e come gestirle nono modo da utilizzare per cercare di sfuggire e di essere il più trasparenti e meno interessanti possibili è quello di cercare di sfuggire sempre alle conversazioni è chiaro che a lungo andare l'altra persona inizierà a pensare ma per quale motivo non viene più ai pranzi per quale motivo non riesco più a parlargli delle cose perché mi scrive solo delle mail per quale motivo per quale motivo e qua devi comunque continuare il tuo lavoro cioè nel momento in cui ti prenderà e cercherà di dirti delle cose perché ha bisogno di comunicare con te tu in quel momento dovrai per forza allontanarti e hai un'altra cosa che per te è molto urgente ti scuserai perché non vorrai mai irritare questa persona non vorrai dargli del nuovo carburante con un metodo molto tranquillo e pacato gli direi guarda scusami lo rifacciamo però in questo momento non riesco proprio a darti l'attenzione che meriti ci vediamo domani ci vuole un po' di tempo ovviamente però se una persona inizia a rapportarsi in questo modo quindi a dare sempre meno nutrimento al narcisista o alla persona tossica che ha di fronte questa persona generalmente si allontana o perde interesse o comunque sceglie di fare il proprio trattamento a qualcun altro e di sicuro ci sentiremo anche un po' meno manipolati nel momento in cui abbiamo a che fare con questa persona perché gli diamo meno possibilità di farlo stiamo parlando comunque di situazioni in cui non vi è un grave abuso di tipo di violenza fisica o verbale esagerato in cui credo che una persona debba rivolgersi immediatamente alle persone che hanno il potere di farlo smettere cioè ad illegali o la polizia sto parlando di persone che potenzialmente sono molto tossiche nei nostri confronti e che ci risucchiano energia e ci fanno sentire appesantiti sfruttati manipolati comunque che ci tolgono davvero anche a volte il sonno per il modo in cui riescono ogni volta a farci sentire sbagliati appesantiti privi di energie che ci spengono in una maniera inesorabile quando si parla invece di quello che dicevo prima cioè dell'eccesso allora a quel punto uno deve pensare che la prima di tutto è importante il proprio benessere quindi o posso fuggire come in natura e quindi lascio il posto di lavoro e cambio oppure cerco di contrattaccare con le armi che mi sono messi a disposizione dalla legge perché a dirla tutta se io ho la possibilità di cambiare il luogo di lavoro cambiare colleghi molto spesso è una scelta vincente nel caso in cui questo non fosse possibile è certo che devo trovare alcune strategie e provare a darmi del tempo che possono essere alcuni mesi in cui mettendo in atto questa tecnica ad esempio del sasso grigio posso cercare di capire se le cose migliorano quindi in conclusione il metodo sasso grigio è una tecnica potente che ha la capacità davvero a volte di disinnescare l'interesse da parte di persone narcisiste o comunque tossiche nei nostri confronti perché il fatto di stabilire dei confini cercare di trovare un distacco emotivo il fatto di limitare le interazioni con questi individui possono davvero crearci uno spazio di sicurezza maggiore e quindi di rallentare diminuire le parti tossiche che noi viviamo all'interno di quel tipo di interazione però mi raccomando se questo metodo non funziona se comunque il nostro benessere psicologico la nostra salute è compromessa da questo tipo di situazione ricordiamoci in primo di chiedere aiuto a delle persone competenti e professionali capaci di aiutarci a superare questa impasse e trovare nuove soluzioni secondo se è possibile si può anche prevedere di cambiare il lavoro e cercarci un ambiente in cui possiamo veramente essere noi stessi tirar fuori le nostre qualità lavorative e personali e sentirci finalmente appagati nel fare qualcosa che rispecchia la nostra personalità e le nostre capacità se questo video ti è stato utile puoi lasciare un like e ti consiglio di vedere anche sul sito www.fabiomazza.eu gli altri articoli che possono interessarti e se non l'hai ancora fatto ti pregherei di iscriverti al canale YouTube per far crescere la community e soprattutto se hai degli spunti delle esperienze delle storie delle domande che vuoi condividere con gli altri membri della community scrivile qua sotto